Sono partite che ti fanno crescere perché venivamo da una bella battosta due giorni fa e venire qua soffrendo e portando a casa un buon risultato è un'inizione di fiducia per tutti noi. Per un portiere entrare in una partita del genere dove praticamente ti tirano da tutte le parti ogni 30 secondi, per assurdo potrebbe essere anche più facile che stare lì e aspettare il tiro della domenica? Non lo so se è stato più facile o più difficile, so che sono felice di come è andata tutto qua, poi un po' di fortuna, un po' di esperienza, la serietà nell'allenamento perché anche se sono un po' in lacco gli anni però cerco sempre in allenamento di avere la costanza, l'allegria e per stare dietro a gente come Aresti e Fiorillo ce ne vuole un po' insomma. L'allegria, a prescindere dalla prestazione personale, lei ha pescato da poco tempo, ha visto il momento difficile della squadra, c'è stata questa prestazione, rinunciatari dopo il vantaggio, a cosa può servire? Ma allora, rinunciatari dopo il vantaggio, intanto siamo venuti qua a giocare contro una squadra importante, con una rosa importante abbiamo avuto la forza di passare in vantaggio, poi è normale, non è che una partita come quella di due giorni fa si dimentica, dunque secondo me abbiamo fatto un grande passo in avanti perché abbiamo saputo soffrire, che era una componente che magari forse nell'ultima partita c'era mancata. Quindi può servire per ripartire, per aprire un nuovo ciclo? Un nuovo ciclo non lo so, però sicuramente abbiamo mosso la classifica, sicuramente abbiamo fatto una buona partita difensiva tutta la squadra e poi vabbè il tempo servirà poi per aggiustare le cose, quello poi non aspetta a me ma c'è un allenatore che deve pensare a cosa manca. Serve anche altro adesso, no? Perché va bene la sofferenza, la capacità di difendersi, la compattezza e tutto, ma serve anche un po' giocare a calcio? Sì, serve però è anche vero che noi dall'inizio dell'anno abbiamo fatto più di qualche partita dove abbiamo dimostrato veramente di giocare a calcio e per assurdo abbiamo portato a casa niente, oggi magari giocando meno bene abbiamo portato a casa punti, perché poi il calcio è un po' così, sono partite dove ti riesce tutto bene e partite poi dove uno soffre.